Salvatore Monteleone sarà quasi certamente candidato al Consiglio Comunale nella lista di Francesca Valenti. È l'ultima novità che proviene dal fronte politico a seguito della clamorosa notizia che dopo Santo Bono anche il chirurgo in pensione, consigliere comunale uscente, ha deciso di rompere col cosiddetto Quinto Polo. Un addio al suo che nelle scorse ore il raggruppamento Ferrara-Messina-Turturice ha minimizzato, evidenziando che Monteleone comunque aveva deciso che non si sarebbe candidato al Consiglio. E invece evidentemente il medico ha cambiato idea, scegliendo di tornare di nuovo in campo dopo le polemiche con l'amministrazione di Paola che lo avevano visto uscire dalla maggioranza, fondando insieme a Mario Turturici un nuovo soggetto chiamato Patto per Sciacca. Non si capisce adesso cosa possa riservare il prossimo futuro, posto che le strade tra Monteleone e l'ex sindaco forse si sono separate ma potrebbero anche incontrarsi nuovamente. Al momento si sa soltanto che l'ipotesi di una candidatura a sindaco autonoma nella persona dell'avvocato Virginia San Marco è stata congelata, forse una strada abbandonata definitivamente. Ignazio Messina soprattutto non sembrerebbe convinto di questa ipotesi per un problema squisitamente tattico, temendo di avvantaggiare altre candidature, soprattutto quella del Movimento 5 Stelle. A questo punto potrebbero entrare in scena ipotesi diverse. La più accreditata è quella di una convergenza col progetto di Callogio Robono. Ignazio Messina, forte di un'intesa con Giuseppe Marinello a livello nazionale, sarebbe disponibile a confluire nello schieramento di centrodestra. Ipotesi questa che però vede gli altri, soprattutto Mario Turturici, particolarmente dubbiosi. L'ex sindaco in particolare ritiene che sarebbe faticoso spiegare all'opinione pubblica le ragioni di anni di dissenso con una coalizione con la quale poi tornerebbe ad allearsi guarda caso per le elezioni. Salvatore Monteleone oggi al nostro telegiornale chiede a Mario Turturici di seguirlo nel fronte del centro-sinistra, confermando il proprio accordo. Il punto è che adesso riuscire a comporre una lista per le elezioni rischia di essere un obiettivo sempre più complicato per il quinto polo, ma nelle ultime ore a questo raggruppamento è arrivata una sponsorizzazione piuttosto significativa, quella di Giuseppe Ruvolo, senatore dell'Udc, per il quale questo gruppo può procedere con una campagna elettorale che sia incentrata soprattutto sulla battaglia per la riapertura delle terme. Da Giuseppe Ruvolo naturalmente il gruppo in questione magari si aspetta qualcosa in più, tipo qualche candidatura per il Consiglio Comunale che renda la lista forte e competitiva. Intanto si lavora la composizione delle liste da parte degli altri schieramenti, tra i nomi che circolano ci sono anche quelli di due ritorni eccellenti, quello di Alfredo Ambrosetti che sarà candidato nella lista di Francesca Valenti e il nome di Pippo Turco. L'ex sindaco correrà con la lista di alternativa popolare a sostegno di Calogero Bono. Una candidatura quella di Turco quasi a sorpresa visto che nei trascorsi politici tra lui e Giuseppe Marinello spesso ci sono state polemiche, ma Turco è colui che nel 2012 si candidò anche a sindaco di Sciacca con la lista di Italia dei Valori di Ignazio Messina.